E Diego? Venga, venga! Urrani, un bel applauso! Questo è il mio d'arte! Stefano, papà, di riferimenti furiosi, mi ha accattato l'arte. Ciao Stefano! E ciao, e tu che chiacchini con questo oppure non così? Allora, chi si fa sentire stasera? Innanzitutto, questa è una serata che mi pare che tu, in compagnia di stati artisti, ci hai mai suonato. Alla maturata mi pare di sentire, ci ho visto una volta, giusto? Allora, che pezzo si prepari, si fa sentire? Non ho capito. La poichissima, la famosa poichissima. Allora, Diego Burani, insieme con l'alternativa, ridotto, siete tutti? Pronti? Allora, sentiamo questa poichissima cantata da Diego Burani, accompagnato per l'occasione, accompagnato dalla alternativa. Buona storia! Un applauso! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.